Poi c'è una cosa che è veramente eccezionale e che si trova raramente o quasi mai in altri linguaggi. Questa è veramente una peculiarità di Hooke notevole, ed è la cosiddetta matrice associativa, ovvero la forma... Dunque, matrice. Prima di tutto matrice è una variabile con una dimensione, una variabile con un indice che contiene più valori. Ecco, quindi sì, in questo ambito la chiamiamo matrice o una tupla, come abbiamo parlato in altri corsi sugli script, linguaggi di script in bash o fish, parliamo di tuple o anche di matrice. Ecco, qui si parla di matrice associativa. La sintassi è praticamente questa, semplice, il nome della matrice, parentesi quadra, la dimensione, l'indice, chiusa, parentesi quadra. Ecco, questa definisce la matrice. Dove però il dollaro 1, in questo caso l'esempio, può contenere qualsiasi cosa. Nel linguaggio di script in nome bash o fish è così, in realtà il dollaro 1 può contenere solo valori numerici, perché come indice noi immaginiamo che questa matrice di nome-nome sia nome di 1, nome di 2, nome di 3, nome di 10, eccetera, eccetera. Ma in ooc invece c'è qualcosa di più. L'indice può essere qualsiasi cosa, sia un numero oppure una stringa. Questa è la cosa eccezionale. Vediamo qui l'esempio, che così si capisce meglio. Ecco, questo esempio. Ecco, faccio un po' di posto, perché se no, ecco. Allora, cosa fa questo esempio? Praticamente, crea una matrice, cioè prende sempre in pasto il solito elenco di file. Crea una matrice, che si chiama file-mese, con indice dollaro 6, quindi il sesto campo, e abbiamo detto che il sesto campo è 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il sesto campo è il nome del mese di modifica, di ultima modifica di ogni file. E quindi cosa fa? Il sesto campo in realtà non è un numero, ma una stringa di 3 lettere, le 3 lettere del mese. Attenzione, noi come indice stiamo usando una stringa, non un numero. Quindi file-mese è una matrice, una tupla, che non è normale in questo senso. Non sarà file-mese di 1, 2, 3, 4, 5, ma file-mese di gennaio, febbraio, marzo, aprile, letteralmente. E cosa succede in questo comando hook? Che la matrice file-mese con l'indice tal dei tali, noi la incrementiamo di 1 alla volta. A quali condizioni? L'output di questo comando viene dato in pasto a hook, il quale in questa prima azione non fa nient'altro che passarsi tutto l'output e a dipendenza della sigla del mese incrementa l'indice di quel mese lì nella matrice file-mese. Finita quest'azione, con un comando if dice se la colonna del mese è maggiore di vuoto, cioè se esiste il mese, se è indicato, se è specificato, questo per evitare questa prima riga dove non c'è la colonna mese, tutto lì, perché tutte le altre righe del risultato hanno la colonna mese, quindi se la colonna mese è specificata, ha un contenuto, stampa il mese con il suo nome, dollaro 6, e il contenuto della matrice per quell'indice lì. E cos'è successo? E poi, passato in pasto l'output del comando hook in pipe al comando sort, per ordinarli in modo discendente, in modo da farmi vedere per mese quanti file sono appartenenti al tal mese, quindi vedete settembre ce n'è uno, due, tre, dicembre ce n'è uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, eccetera, eccetera. Vediamo il risultato, vedete che settembre, ovviamente impostato così il comando viene ripetuto ogni volta che passa il mese, però io ho sorteggiati, vedete che la prima voce di settembre dice che sono tre, quindi ci sono tre file che sono stati modificati in settembre, e qui vedete il conteggio che è salito man mano fino a tre, novembre ce n'è uno solo, dicembre ce ne sono sette, sette file che sono stati modificati in dicembre. Quindi, vedete questa qui veramente, credo che un sviluppatore software apprezzi tantissimo quello che gli sto facendo vedere in questo momento, ovvero che si possono creare in OK delle matrici che possono avere come indice non solo dei numeri, ma addirittura delle stringhe, quindi posso fare un conteggio per mese senza dover convertire il mese in un codice numerico, ma usando direttamente il mese. Questa matrici associativa è veramente una cosa bestiale, fortissima. Ecco qua, abbiamo spiegato, valeva la pena di perderci qualche minuto perché è veramente una cosa quasi unica questa, molto molto potente questa cosa. Quindi vabbè, o ci siamo accorti a questo punto, ho messo questa nota, ma ormai l'abbiamo capito che è un vero e proprio linguaggio di scripting potente ed utile, non solo un semplice comando, ecco, ma molto di più. Qui passo in rassegna alcuni esempi pratici, che possono poi servire nella pratica, ecco, scusate il gioco di parole, perché sono esempi tipici di applicazione di OK, tipo invertire un testo, dall'ultima alla prima riga. Questi sono esempi che vi trovate qui raccolti in questa scaletta e possono sempre essere riutilizzati, ampliati, modificati a seconda delle vostre esigenze. Ecco che, se io uso questo comando, mi inverte questo file, quindi vedete qui il view, eccetera, eccetera, dall'ultima riga la fa diventare la prima e viceversa, quindi testa a coda, eh. Faccio enter e, vabbè, lo faccio stampare a video, tanto è solo per capire, vedete che l'ultima riga è Brunei, se noi andiamo qui sotto, aspetta, magari tiriamo su un po', ecco, se andiamo qui sotto sono 157 righe, Brunei è l'ultima, però qui nell'output di OK è diventata la prima, perché abbiamo invertito l'ordine del testo, rispettivamente le colonne con i nomi delle colonne è diventata la prima. Abbiamo invertito completamente il testo. Come funziona questa cosa? Praticamente vedete che usa un for, un ciclo, ho descritto tutto qui, il dettaglio, non stiamo qui a vedere in dettaglio perché questo comando fa questa cosa, è tutto descritto qui, ho messo anche una forma alternativa che fa la stessa cosa con l'autoincremento usato diversamente, comunque fatto sta che in sostanza viene memorizzata in una variabile il testo da invertire e poi con un for viene letto praticamente questa matrice al contrario e stampata appunto al contrario, quindi una volta che ho in memoria il file di testo in questa matrice A poi basta leggerla al contrario ed ecco fatto il gioco che il testo è rivoltato sotto sopra. Questo è nient'altro che lo stesso comando scritto leggermente diverso appunto con gli autoincrementi impostati diversamente. Un altro interessante comando è quello di eliminare una colonna da un file, cioè togliere proprio il contenuto di una determinata colonna e qui entra in gioco anche l'opzione per indicare ad hoc qual è il separatore dei campi, se no non può sapere se è diverso da spazio. In questo primo esempio eliminiamo, dunque il primo comando elimina, svuota l'ultimo campo. Sappiamo che la variabile nf indica l'ultimo campo di un file di testo e qui vedete che il comando gli diciamo hoc meno f maiuscolo che sta per il separatore dei campi f field seguito dal separatore quindi meno f virgola. Questo indica a hoc che non è lo spazio separatore bensì la virgola. Poi l'azione da fare ad ogni riga che elabori azzera il contenuto del campo nf ovvero dell'ultimo campo quello all'estrema destra della riga l'ultimo campo di ogni riga svuotalo e poi stampa il file. Ecco qui è sparito l'ultimo campo è un po' difficile vederlo qui a video comunque rispetto a quello sopra vedete che l'ultima colonna è subscribers lost qui l'ultima colonna è subscribers gained eccola qua che era la penultima prima perché? perché l'ultima l'abbiamo svuotata non c'è più finita non c'è più l'ultima ok analogamente non è detto che dobbiamo proprio eliminare l'ultimo campo ma possiamo eliminare il campo che vogliamo che abbiamo bisogno questo secondo esempio per esempio elimina azzera svuota il secondo campo e non l'ultimo questo ultimo esempio il campo non lo svuoto il secondo campo ma ci aggiungo davanti codice nazione perché il secondo campo come vedete dal foglio calc la seconda colonna il secondo campo è il codice della nazione no? it ch di eccetera eccetera ecco io voglio svuotare questo nel secondo esempio nel terzo esempio non lo svuoto ma lo modifico ci aggiungo codice nazione due punti e il suo valore quindi cosa succede? facciamo almeno questo esempio facciamo questo esempio enter vedete che ad ogni seconda colonna non l'ha svuotato bensì ci ha aggiunto codice nazione due punti vabbè questo è il primo bisognerebbe affinare questi comandi per evitare di toccare la prima riga però fa niente partiamo dalla seconda codice nazione due punti it codice nazione due punti ch eccetera eccetera vedete quindi non è detto che lo scopo sia solo di eliminare una colonna da un file non può essere anche eliminare come dire barra modificare ecco se vogliamo essere più precisi una colonna da un file l'ultimo esempio vi permette di modificare puntualmente quella tal colonna molto bene un altro esempio è quello di considerare solo le righe pari o viceversa solo le righe dispari di un testo ecco che qui entra in gioco nuovamente puliamo un attimo entra in gioco nuovamente l'operazione modulo quindi se uso questo comando testando il numero di riga corrente che sta passando con la variabile nr modulo 2 quindi diviso per 2 se non da resto ovvero se questa operazione è uguale a 0 vedete il test di uguaglianza è dato con 2 uguali se da 0 questo torna solo le righe pari quindi mi stamperà a video solo le righe pari quindi di tutto il mio testo campione queste sono le righe pari quindi la 2 la 4 la 6 la 8 eccetera eccetera viceversa se voglio invece le righe dispari devo testare se mi da resto la divisione quindi se la divisione del numero di riga corrente mi da resto vuol dire che in quel momento la riga disparo ero la 1 la 3 la 5 la 7 eccetera eccetera quindi qui mi stamperà le righe alternate diverse vedete la 1 questa è la 1 che prima non c'era la 1 era già la seconda diversa qui non ho la seconda eccetera eccetera anche questo può venire utile sapere come scremare righe pari righe dispari eccetera eccetera presente sono righe alternate se serve estrapolare alternativamente le righe una sì una no sappiamo come fare ultimo esempio pratico è considerare solo una fetta di testo un po' come con sed che avevamo visto che potevamo considerare un certo intervallo di righe possiamo farlo anche con oak ovviamente come si fa con oak possiamo farlo semplicemente no vediamo un po' con un if per esempio sempre usando il numero di riga corrente quindi in questo caso cosa gli diciamo se il numero di riga è fra 10 e 20 stampa se no no quindi vedete che stampa fra la riga 10 e la riga 20 e poi smette ecco quindi avete visto che vi ho dato anche una bella serie di esempi utili sui quali lavorare o partire se avete necessità poi e qui ci ritroviamo di nuovo nel capitolino finale dell'utilizzo dell'espressione regolare quindi anche oak può usare l'espressione regolare e lo fa con una sintassi che corrisponde però si innestano con una sintassi sua in sostanza sono due gli operatori che hanno a che fare con l'espressione regolare questo come dire serpentello io lo chiamo così è il simbolo del serpentello che indica ad oak di considerare la corrispondenza dell'espressione regolare che segue rispettivamente il punto esclamativo famoso che vuol dire la negazione il not con il serpentello che vuol dire di non considerare la riga di quell'espressione regolare quindi uno è il contrario dell'altro vediamo subito un esempio e tra l'altro scusate le espressioni regolari vanno sempre incluse fra due barre vi ricordate nel sito interattivo che le due barre slash slash a inizio e fine di espressione regolare erano già implicitamente messe dal sito dalla pagina del sito qui dobbiamo metterle noi le due barre in questo primo esempio ecco diciamo che sempre del nostro elenco di file testiamo che il campo 6 che è quello del mese sia diverso da dicembre quindi ci stampa tutti i file che sono stati modificati in mesi diversi da dicembre per quanto riguarda il campo 6 appunto il sesto campo che è questo settembre novembre ma non quelli di dicembre infatti ho messo il not punto esclamativo serpentello vuol dire filtra escludi escludi tutte le righe che coincidono con questa con questa espressione regolare tieni buone le altre quindi lascia passare le altre tutte quelle che non corrispondono a questa al contrario ovviamente vabbè questo tolgo il punto esclamativo vuol dire stampami invece solo quelle che corrispondono con dicembre serpentello ed espressione regolare dic dicembre e voilà il contrario qui abbiamo capito il meccanismo di come si innestano le espressioni regolari in un comando oak questo l'ho messo semplicemente in un if quindi invece di mettere un uguale un minore uguale così ho messo il serpentello o il punto esclamativo serpentello è un test come un altro poi qui c'è un altro comando che stampa le righe che contengono il testo il del nostro testo campione vabbè dopo qui sono varie varianti le solite ecco qui ancora una volta testa per la riga corrente quindi dollaro zero quella che sta passando testa per la riga corrente se c'è una corrispondenza con spazio il spazio e lo stampa se no non lo stampa e quindi vedete che ci stampa alcune righe con il numero di riga gli ho detto di stampare il numero di riga due punti e il contenuto della riga quindi la riga 38 deve contenere un il con uno spazio davanti e dietro eccolo qua così come che ne so la riga 51 eccolo qua e così via quindi poi qui sono varianti sullo stesso tema e ormai abbiamo cominciato a conoscere questa espressione regolare anche a vedere i comandi l'espressione in quanto tale non può più essere un mistero per noi qui per esempio stampa tutte le righe che iniziano con una P minuscola quindi c'è l'ancora e P minuscola ed è la stessa cosa di quello sopra non sto neanche qui ad eseguirlo così come qui stampa le righe che iniziano no scusate che qui è la riga corrente che inizia qui è il campo il campo numero due che inizia per C o per I quindi con le parentesi quadre che ci dà l'insieme di ricerca e con l'ancora all'inizio ecco questo magari è un po' più interessante come esempio vedete che dal comando dal file qui questo qua sottofondo stampa solo quelli che hanno nel campo due ovvero nella sigla delle nazioni it ch in ca eccetera che hanno un inizio con una I maiuscola con una C maiuscola infatti c'è la i di it la c di ch la c di ca la i di in eccetera eccetera co e vedete che poi le espressioni regolari si innestano e fanno il loro lavoro all'interno anche di questo comando poi qui ormai sono cose che abbiamo già visto e si capiscono facilmente a parte il serpentello che però che è la sua particolarità questo cosa fa stampa le righe del testo a colonne che nel settimo campo hanno un valore che non inizia per zero quindi diverso da zero e che non contenga una stringa che termina con views eccetera eccetera poi qui ecco non sto qui a ripetere tutti i campi tutti gli esempi perché avete le scalette a disposizione e ormai avendo iniziato a prenderci a farci l'occhio a questa espressione regolare riuscite anche a capire cosa fanno questi comandi quindi qui stiamo lavorando sul file separato da virgole quindi meno f virgola stiamo lavorando sul campo sette che non deve contenere delle stringhe che iniziano ancora zero che iniziano con zero e sempre il campo sette che non contenga da qualche parte una scritta views alla fine che finisca con views ecco vedete qui l'altra ancora il dollaro che finisca con views come ultima parte del contenuto e quindi stamperà le sue cose che deve fare qui addirittura giusto per far vedere che si può integrare in col calcolo faccio stampare le visualizzazioni del tal paese nel campo uno che è uguale al campo sette per dieci ma proprio a caso così tanto per far per complicare un attimo il comando perché se no è sempre la solita solfa potete studiarveli per conto vostro poi ci sono dei dei comandi particolari e qui siamo praticamente in fondo le ultime cose sono dei comandi particolari che accettano le stringhe le espressioni regolari a loro volta dei come dire delle parole dei comandi sì dei comandi del linguaggio di oak che a loro volta accettano o lavorano con le espressioni regolari uno dei quali è match quindi corrispondenza match cerca la corrispondenza fra una stringa e un'espressione regolare quando viene usato questo comando match automaticamente carica anche delle variabili predefinite di oak fra le quali r length che carica la lunghezza della stringa che ha trovato meno uno se non la trova r star che carica dove inizia quella stringa che ha trovato dell'espressione regolare facciamo un esempio qui facciamo enter ok allora cosa ha fatto questo comando sempre distinguendo i campi con la virgola fa il match fra il campo uno che è questo qui vedete qui sotto il nome del paese esteso grecia giappone argentina eccetera fa il match del campo uno virgola che la struttura del comando match è questa virgola l'espressione regolare da verificare quindi verifica questo match dove tutti i campi uno quindi i paesi i nomi dei paesi che abbiano da qualche parte al loro interno la stringa ri con questa espressione regolare e poi li stampa questi stampa solo questi quindi il match fa da filtro in oak praticamente filtra grazie a questa espressione regolare rispetto al campo uno infatti austria contiene la i bulgaria algeria contiene la ri vedete che li ha filtrati correttamente e quindi ancora una volta oak oltre a poter usare lui direttamente le espressioni regolari ha anche dei comandi che a loro volta accettano come parametri un'espressione regolare vedete che è facile questo match fa un filtro campo e espressione regolare fa il confronto se è ok lascia passare la riga se no no poi c'è anche un altro comando sub espressione regolare virgola sostituzione virgola non obbligatorio campo destinatario che sostituisce solo la prima occorrenza della stringa corrispondente all'espressione regolare l'indicazione del campo destinatario è opzionale se non indicato agisce su tutta la riga ecco sembra più complicato a leggerlo che ad applicarlo quindi vediamo subito un esempio cosa ha fatto questo comando sub vuol dire substitution quindi fa una sostituzione un po' come con sed il comando s per sostituire anche oak ha il suo comando di sostituzione lui cosa fa sub sostituisco che cosa l'espressione regolare prima di tutto quindi cerco nelle righe di questo file cerco dove c'è dove è contenuto la stringa ga è come espressione regolare semplicissima questa qui cerca semplicemente ga e lo sostituisce con cosa quindi l'espressione regolare di ricerca il filtro la sostituzione quindi il ga minuscolo voglio che venga sostituito quel ga maiuscolo banalmente dove però il campo destinatario quindi non è obbligatorio mettere il campo destinatario io qui l'ho messo però quindi voglio che questo comando di sostituzione lavori solo sulla prima colonna quindi sul nome dei paesi questi qui sotto quindi cercherà tutte nelle colonne 1 tutti i paesi che hanno un ga minuscolo e vedete che li ha sostituiti con i ga maiuscoli guardate qua e funziona e appunto dicevo non è obbligatorio indicare il dollaro 1 perché se non l'avessi indicato lasciandolo via completamente come nel secondo esempio qui che non sto qui a fare lui avrebbe o avrebbe agito su tutte le colonne indifferentemente quindi o se ne indica una specifica o lui spazzola tutte le colonne in questo caso non ha senso spazzolare tutte perché sono tutti valori numerici a parte le prime due colonne ecco quindi ho indicata una e questo è il sub per sostituire quindi con o si può anche sostituire un valore con un altro e poi c'è il g sub che è praticamente il sub ma scusa ma 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 sostituisce tutte le occorrenze della stringa è ok sì scusa sub sostituisce l'occorrenza che trova ma la prima di una riga ovvero se ci fosse un paese con scritto nel suo nome due volte la sequenza ga con questo comando sub l'avrebbe sostituito solo la prima quindi esiste la versione g sub che è quella globale cioè in un certo senso il g sub è il sub con il flag g attivato ecco g sub avrebbe sostituito tutte le occorrenze ga di una medesima riga ecco quindi sub e g sub sono praticamente la stessa cosa tanto che uno agisce e si ferma la prima occorrenza che trova per ogni riga e il g sub invece passa tutto spazzola tutte le occorrenze che trova tutto lì con questo ho concluso anche questo video su OAK che è veramente potente è veramente ripeto se volete approfondire vi accorgerete da voi che OAK è veramente tutto un mondo a sé qui lascio tutti i riferimenti come sempre e con questo vi saluto e vi attendo al prossimo video ciao ciao